ciao ragazzi e bentornati su hard rock crypto qui è muro per voi oggi voglio riprendere il discorso fatto da rick ed eichel un paio di giorni fa nella live del lunedì alla quale purtroppo non ho potuto partecipare ed in cui si è parlato di bull market anticipato e di super ciclo e quindi ho deciso di fare questo video per dire la mia opinione in proposito e quale sia la mia strategia in questo momento ma prima di cominciare ragazzi se vi piacciono questi contenuti vi invito come sempre a sostenerci spaccando il tasto del like qua sotto iscrivetevi al canale e accendete la campanellina per restare sempre aggiornati e vi aspettiamo anche sui nostri social e inoltre tutto quello che dirò in questo video non rappresenta assolutamente un consiglio finanziario e mi raccomando fate sempre le vostre ricerche prima di investire bene possiamo partire nel momento in cui sto registrando bitcoin si trova ad un prezzo di circa 63 mila dollari dopo aver toccato poche ore fa i 69k quasi raggiungendo un nuovo massimo storico all time high che in realtà è già stato superato se considerassimo il prezzo in euro infatti il 28 febbraio bitcoin ha superato per la prima volta il precedente massimo storico di fine settembre 2021 quando aveva raggiunto circa 53 mila euro la corsa come ben saprete poi è proseguita nei giorni successivi e ieri addirittura ha superato i 63 mila euro quindi oltre 10 mila in più rispetto ai vecchi massimi in euro con la volatilità che è ai massimi livelli una cosa a cui dovremo abituarci nei prossimi mesi poi tornando a ragionare in dollari ieri bitcoin dopo aver toccato i 69k ha subito una bella correzione che lo ha riportato a 59k e ora siamo di nuovo a 63 mila dollari circa ma indipendentemente dal prezzo attuale che lo si guardi in dollari o in euro quello che sta succedendo è completamente diverso dai precedenti cicli che abbiamo vissuto e a livello di price action si può tranquillamente dire che siamo in anticipo di diversi mesi infatti nei cicli passati non era mai successo che il prezzo di bitcoin andasse a sfiorare i suoi vecchi massimi ancora prima dell'halving ed è probabile che riesca anche a superarli prima di arrivarci e questo anticipo è dovuto sicuramente alla tanto attesa approvazione da parte della SEC degli etf spot su bitcoin negli stati uniti che dalla loro partenza circa due mesi fa hanno battuto qualunque record ma soprattutto hanno attirato e stanno attirando tantissima liquidità da nuovi investitori che prima non avevano alcuna intenzione di esporsi al mercato cripto e siamo solo all'inizio quindi ritrovarci in questa situazione quando manca circa un mese e mezzo all'halving devo dire che mi rende particolarmente bullish per i prossimi mesi che ci aspettano ma quindi se siamo in anticipo rispetto ai cicli precedenti vuol dire che il bull market finirà prima del solito oppure andrà come le altre volte e quindi con un bull market che terminerà circa a fine 2025 o addirittura ci sarà un super ciclo e quindi questo mercato rialzista durerà per diversi anni io personalmente non credo nel super ciclo o meglio penso che bitcoin continuerà a seguire i suoi cicli di quattro anni come fatto finora e quindi credo che le tempistiche non cambieranno molto dal passato penso che l'halving avrà anche questa volta la sua grande importanza anche se non nell'immediato ma nei mesi a seguire con il dimezzamento delle ricompense per i miners di bitcoin per quanto mi riguarda inizierà a farsi sentire soprattutto con gli etf che continueranno ad accumulare btc raccogliendo decine di miliardi di dollari di investimenti e quindi con una richiesta sempre maggiore e l'halving che si avvicina inizio ad immaginare uno scenario molto interessante anche perché altro fattore fondamentale in questo momento gli investitori retail non sono ancora arrivati o comunque non ancora in grande numero come in passato e questo mi lascia parecchio fiducioso poi per quanto mi riguarda bisogna essere mentalmente elastici e pronti ad adottare piani diversi in base a quello che succederà quindi vuol dire che devo avere una strategia in caso le cose vadano male e il bull market finisca prima del previsto così da non perdere gran parte dei profitti fatti negli ultimi mesi ma devo anche avere una strategia in caso di super ciclo in modo da non uscire al momento sbagliato e precludermi ulteriori guadagni non sarà assolutamente facile e sicuramente dovrò stare molto attento a non farmi prendere dalle emozioni o dall'avidità nelle fasi calde del mercato la mia strategia al momento è seguire il trend e mantenere le mie posizioni principali ma ogni tanto prendere un po di profitto su alcuni altcoin che ho accumulato l'anno scorso e che ora sono in netto guadagno in modo così da crearmi nuovi fondi da reinvestire su coin più recenti che considero valide e che secondo me hanno un maggior potenziale rispetto alla moneta venduta possibilmente acquistandole dopo un dump di mercato non ho al momento una particolare exit strategy perché non credo che il bull market sia per finire a breve per i motivi che vi dicevo prima e almeno per i prossimi sei mesi non penso che cambierò strategia ma se dovessero verificarsi delle condizioni di mercato inaspettate come ad esempio per assurdo se bitcoin raggiungesse i 280 mila dollari tra quattro mesi ovviamente adotterei una strategia diversa senza aspettare sei mesi e consiglio a tutti di avere una exit strategy che vi soddisfi in quanto approfitto e che minimizzi i rischi poi avere una strategia per quanto mi riguarda non significa fossilizzarsi su certe idee ma essere capaci a reagire in base a quello che succede e sapersi adattare eventualmente ad un nuovo tipo di mercato a cui non eravamo abituati se sarò in grado di comportarmi così allora sono convinto che questo bull market porterà i suoi frutti poi non fare errori è impossibile e qualcuno lo farò per forza ma dovrò cercare di ridurli al minimo questo è il mio terzo ciclo da quando ho scoperto bitcoin e il mondo delle criptovalute e il mio obiettivo principale sarà migliorare la gestione dei profitti rispetto ai cicli passati che comunque non sono andati male e il primo passo per farlo sarà sicuramente non ripetere gli errori del passato come ad esempio affezionarsi a certi progetti e non riuscire a schiacciare il tasto vendi quando va fatto oppure farsi prendere dalla fumo in certi momenti e viceversa non andare nel panico ad ogni ribasso del mercato col passare del tempo devo dire che ho imparato a gestirmi sempre meglio ma ho sicuramente ancora margini di miglioramento per sintetizzare diciamo che non aspetterò una data precisa per poi vendere tutto ma non credo neanche che holderò all'infinito le mie monete convinto che il ciclo durerà 10 anni e anche se succedesse dovrei comunque attuare un metodo diverso dall holding e basta in questo bull market sarà la mia capacità di adattamento a dirigere in un certo senso le mie strategie personalmente per come stanno andando le cose ora mi aspetto un bull market spettacolare ma in caso e spero proprio di no cercherò di farmi trovare pronto per chiudere vi voglio dare un paio di consigli che possono sembrare banali e facili da adottare ma poi all'atto pratico risulta più difficile farlo innanzitutto dovete restare sempre informati sembra ovvio ma non lo è per tutti nelle cripto spesso e volentieri essere sul pezzo è più utile che capire un grafico o conoscere a livello tecnico un progetto conoscere i trend del momento capire quali sono i progetti in hype interpretare in anticipo le news che possono smuovere il mercato è fondamentale per riuscire ad investire in modo profittevole o capire quando è il momento di uscire sono tanti i modi per rimanere informati ad esempio seguendo un canale come il nostro ma anche leggendo articoli sulle riviste online di settore possibilmente da più fonti in modo da farsi un'idea più completa su ciò che succede e poi un'altra cosa molto utile è girare parecchio sui social dove si può percepire il sentimento di mercato e poi l'altro consiglio che voglio darvi che fondamentalmente è quello che diciamo sempre è fate le vostre ricerche prima di investire che molti pensano sia una frase di rito da ripetere ogni volta ma in realtà è una cosa fondamentale capire e analizzare il progetto o i progetti in cui si sta investendo è molto importante comprendere i fondamentali della tecnologia cercare di capire quale problema vuole risolvere e se ha una qualche utilità ma anche che team c'è dietro se ha già esperienza quanto è grande la community e quanto credono nel progetto e poi è fondamentale anche la tokenomics e il suo storico eccetera eccetera diciamo in linea di massima che non bisogna perderci le settimane a scegliere ma neanche decidere sulla base di quanto sia accattivante il nome del progetto e basta diciamo che una via di mezzo potrebbe andare bene poi di consigli se ne potrebbero dare tanti altri ma per quanto mi riguarda avere una strategia chiara restare sempre informati e sapere su cosa si sta investendo sono la chiave per essere profittevoli nelle cripto fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate dell'attuale situazione di mercato e che cosa vi aspettate nei prossimi mesi come sempre se vi è piaciuto questo video disintegrate il bottone del like qua sotto iscrivetevi al canale e accendete la campanellina per rimanere sempre aggiornati veniteci a trovare sui nostri social e alla prossima sempre qua su hard rock crypto grazie a tutti Grazie per la visione!